Buongiorno a tutti voi e bentornati. Oggi vi presentiamo un libro, Alla riscoperta della macchina per scrivere, l'autore Cristiano Marino Casonati, pagina 148, l'editore Libri Sandit di Albino, in provincia di Bergamo. Il manuale è un manuale tecnico pratico per la conoscenza e l'uso della macchina per scrivere, per il collezionista, l'appassionato e i nuovi utenti dell'era digitale. È un manuale ricco di fotografie e immagini e spiega come si si approccia a una macchina da scrivere, una macchina da scrivere del passato, ma anche quelle moderne. L'autore è un artigiano che ha dedicato la sua vita alla riparazione e al restauro delle macchine da scrivere, quindi è un esperto. È un libro che vi consigliamo, se avete un interesse sulle macchine da scrivere, oppure se volete saperne di più per quanto riguarda un apparecchio che tanto ha cambiato il modo di approcciarsi alla scrittura. Grazie per aver seguito questo video e chiediamo di iscrivervi al nostro canale se volete essere informati sulle prossime nostre novità. Buona giornata! Grazie per aver guardato il video!